Ok, eccoci, siamo in live In teoria Siamo o non siamo in live? Vediamo subito In teoria, sì, siamo in live Titolo di broadcast 02 03 20 12 Ok, vediamo se mi sentite Ok, vediamo se mi sentite Sì, ok, mi sentite, mi sentite Ciao Ciao Interclub, ciao non mi chiamo Ciao Ferdale Ora carico il video di Youtube in modo che Tutti sappiano che sto per fare un live stream E partiamo a fare qualcosa Iniziamo con Happy Wheels Perché Ricordatemi, ricordatemi che devo iniziare con Happy Wheels Perché se no mi scordo Ve l'ho promesso ieri sera e quindi Lo facciamo Allora Carica video Carica video Live stream Allora Ok Come non mi vedete? Sì che mi vedete Non dite bugie Non dite bugie Non dite bugie che vi picchio tutti quanti Vi massacro di botte Non dite bugie che vi picchio tutti quanti Vi massacro di botte Ok, ok No, funziona Funziona tutto perfettamente Ora Vedete che Il live stream Si sta avviando Abbiamo già due visitatori in più Attenzione Allora Allora Ah beh Sì 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 È normale È normale Ho messo io che si vede live stream Perché Boh Ora vedete è normale Ma sono io che ho messo live stream Così Allora Così io infatti mi faccio gli affari mei Vado sui siti porno Sai come Allora Live stream In questo momento Mettiamo un sacco di mi piace Mettete mi piace Mettete mi piace Il video del live stream Ragazzi Mettete mi piace Il video del live stream Mettete mi piace Mettete 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 mi piace Mettete mi piace Il video del live stream Sì no io vengo lì Io Spacobotida Ammazza famiglia Ok 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 Ho un messaggio privato Ok Ficiamo un attimo Andiamo un attimo Chi è il mode di oggi Oddio Chi è il mode di oggi Non ho visto Chi è arrivato primo Facciamo così Faccio una domanda E il primo che mi risponde Lo metto Mod Allora Vediamo un po' Una domandina Carina Bellina Una bellissimina Domanda Indovinelli 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 divertenti Questo è carino Questo è carino Allora Si può fare fra due uomini Fra un uomo e una donna Ma non fra due donne Che cos'è? Si può fare fra due uomini Fra un uomo e una donna Ma non fra due donne Dai dai che è facile Dai 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 che è facile dai Dai che è facile Ehi nessuno sta scrivendo niente Siete deludenti 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 Ora Lo cercheranno tutti in internet Un po' anche ovvio Scusa a fare un lato Ok In un'auto che affronta una curva Qual è la ruota che gira di meno? Ciao Yojimbo Benvenuto Benvenuto Ho fatto un indovinello Il primo che risponde Fa Diventa un moderatore E in un'auto che affronta una curva Qual è la ruota che gira di meno? Basta quella di che quella al centro Abbiamo lette tutte No Non è né sinistra né destra In un'auto che affronta una curva Qual è la ruota che gira di meno? Sbagliato 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 Ciao Pringles No Non è né la destra Nella sinistra Nella sinistra anteriore Nella sinistra anteriore Né nessuna No Non è nessuna Sbagliato Ciao Ciao Iacopix Comunque Dai 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 No Non è nessuna Dai ragazzi Mi sorprendete Ciao Fave46 Fave46 Attenzione Ciao La macchina No dai Nessuno ha indovinato Era la La ruota di scorta Oh Voi siete Io avevo detto La ruota di scorta Era la ruota di scorta Quella che gira di meno Vergognatevi Vergogna Vergogna Diciamo un altro Un altro Uno corto però Allora Cos'è che è bianco E che cade d'inverno Quando fa freddo No Non è la neve No Fave Sbagliato Sì Ora vedete È normale Ho messo live stream Solo perché Non voglio fare Allora Un foglio No Non è un foglio Dai Dai Cos'è Che è bianco E che cade d'inverno Quando fa freddo Aggiungo un indizio Magari che No Questo è difficile No Questo è difficile Era Era il vecchietto Non aveva nemmeno Tanto senso Allora Cacca bianco Oddio Oddio Ehm Ehm Allora Cos'è che fa così Dai 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 No Ferdai Non è quello Che volevi scrivere No Biscotto Non è il biscotto No Io Jimbo No No Ci starebbe bene Ma non è quello No Non sono i biscotti Mi dispiace Mi piacerebbe Ma non sono i biscotti Ciao Enzo Benvenuto Bentornato Benvenuto Bentornato Ciao Saluto tutti quelli che non hanno salutato Allora Joe246834 Ciao Grazie per essere venuto Interclub4 Ha salutato MasterBall98 Ciao Benvenuto Non mi chiamo C'era già XRicky Ciao Ricky E io Jimbo Ok Nel film di Perino Non i biscotti LOL La pasta No Non è la pasta Dai Che facile Va dentro Duro E tirato Esce fuori Molle E bagnato A giù Che si mastica Dai Più di così Il primo che lo scrive Dai Il primo che lo scrive Con il suo nome americano Dovete scriverlo Con il suo nome americano E quella cosa Che è dura E poi è molla E bagnata E che si mastica Con il nome americano Ciuigam Oddio Cosa ha detto quello BigBubble No non si chiama BigBubble Non si chiama Wuster Oddio Ciuiuiu Gam Che cosa è scritto No non è un Wuster Ma che Wuster Cosa c'è il Wuster No Gomma da masticare No Ho detto con il nome inglese Gam No Dai 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 che ci siete qua Crosse 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 Dai che è facile Oddio Non direi che E mi dispiace Alex Miller Ciuingam Ciuingam E Joe246834 È il nostro Operatore di oggi Bene così Ciao Ciao Master LOL Ok Ok allora Oggi cosa facciamo Allora se avete domande Eh si domande Ciao Alex Ciao Qualcuno ha idee Qualcuno vuole proporre una mod Intanto Partiamo così Intanto Avvio Minecraft Ecco Com'è Ah Amicata Inja 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 Arctic Abyss Nuova faccia e si Allora Corrected zombies not burning in sunlight Ah Poi Birch and sprouts saplings not going to take 127 Ah quindi se ora noi mettiamo Un albero Più grande di 127 Più alto Crash bug Ok si si sono comunque cose utili Login Ora il problema è che dovrò riscaricarmi Too many items Ah no vabbè ce l'ho già Ce l'ho già Ciao power master Nuova faccia si nuova faccia Sono comunque cose utili Quindi capirai Ristare un attimo too many items E finita lì Da lì Così 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 Allora 1.2.3 1.2.3 Attenzione All'1.2.3 Attenzione Allora Minecraft Si va su bin Si va su minecraft Si fa apricorn With all archiver Archiver Attenzione All'archiver Attenzione Quattro Quattro sono vicino Folligation All'archiver Che è un display Che mostra un numero scelta da 1 a 9 Penso che possa essere diventata soprattutto con l'introduzione delle cose lampa lì Delle redstone lampa penso possa venire qualcosa di carino veramente Ora spero solo di ricordarmi bene come si fa Sura Fai un croc E metti vicino al grosso e pietra rossa Sura Provi la modella Cioè del paradiso Wei Sura Ciao Ciao Mutiamo un re Manuil74 Sura Conosci luke 4316 Si lo conosco Salutiamo chi non ha salutato Perché è maleducato No Solo Manuelino Manuelino ha salutato Andiamo a vedere se ha salutato Manuelino Si Canta mai di Torponi Oddio Oddio Sura Cosa sai perché mi piace sempre Minecraft No mi dispiace non lo so Ehm Manuelino Ok quindi ora possiamo riavviare Minecraft Attenzione Riavviamo Minecraft Attenzione Attenzione Riavviamo Minecraft Cosa ci Cosa vi regalo Sono Grazie Ciao Lucino98 Mi sa che sei E' la prima volta che ti vedo nel nostro stream Congratulazioni Sei entrato nella famiglia dei Pazzi mentali Manati mentali Pazzi mentali Come le vuoi chiamare Nei siamo malati Seguisco Se voi ci sono in chat Diventerai neurotico Esterico Avrai qualche attacco d'ansia E quindi Così Benvenuto in famiglia Quindi Malati mentali Si ne siamo malati mentali Sai com'è Capita 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 Allora Andiamo in My Little Pony Che è un mondo piatto Si Si La 1.2.3 È già uscita 1.2.3 Manuelino se ne lo ha Non Manuelino No Lo Ok Vediamo se Ok Lag 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 Sta generando i chunks Guardalo come ci vengono i chunks È troppo Blu Quando ci vengono i chunks Ok Ok Lo ad uno Perfetto E sentiamo Allora Che dite Facciamo questa costruzione Penso posso essere divertente Occuperà Non tanto E magari imparare Le cose di nuove Sulle Sulla Redstone Perché voglio Anche Pensare una serie Con Tip and tricks Sulla Redstone Adesso scarico Lag Anche la voce Oddio Non credo Che fare una casa di TNT È una casa molto Sana Sia per me Che per il mondo L'esperienza Oh Hanno aggiunto I drop rari Avete visto Avete visto I drop rari Drop raro Uh uh Freccetta Drop raro Freccetta Drop raro Freccetta Drop raro Avete visto Avete visto Avete visto Uh uh Che figata Che figata Che figata Che figata Che figata Cioè Vedete se tolgo la luce Forse Hanno sistemato I bug Della Delle torce Oh no No sta per esplodere Invece no Non hanno bagato Oddio No no Pringles Uso Uso Quella per 1.2.2 Perché tanto Non hanno aggiunto Blocchi Quindi Non cambia niente E ti eviti Di scaricare Altre robe Allora Lag la voce Ma se la vuoi Lag la voce Io faccio più di 400kbps Non dovrebbe Laggare per niente Anzi Non morite Ok Quindi Vogliamo fare La stessa cosa Si Benissimo Allora Mettiamo in creativa E Sì Canceliamo tutto Oddio Ah ok Hanno fissato anche Bugga della doppia porta Quindi Sì sì Lo so Adesso Non lagga Non la doppia Adesso Mi piace Sì e no Sì Adesso Sì Ma cosa Stato dicendo Oddio Sì Adesso lagga È perché Ho il mouse Fermo Se muove il mouse Inizia a aumentare Il kbps E si risolve Tutto Allora Voglio provare Qua Le reston lamp Eccole qua Allora Le reston lamp Le reston lamp E mi serve Anche No Le reston torse Non mi serve Ah beh sì Mi servono Poi mi servono Dei blocchi Casuali Tipo giallo E pink Poi No perché pink B è pink Mettiamo Il viola Il viola Che figo Anzi La pancione Che ancora Che figo Poi Cosa prendiamo Prendiamo Naturalmente Le solite cose Questo Questo E ok Andiamo a fare Il test Andiamo per di qua Andiamo più di qua Più di qua Più di qua Perfetto Leviamo la Poggia Che si non rompe Mettiamo giù Perfetto Se non facciamo così Facciamo Così Si accenderà Oh Attenzione Che goduria No Oddio Già iniziamo a sbagliare No Lab Ok Allora Allora La cosa è questa Ci deve essere Una cosa di questo genere Un Due Tre Così Uno Due Tre Poi anche qui Uno Ah no Aspetta Devo farlo un po' più alto Allora Tipo Così Allora Uno E Uno Due Tre Poi No no Mi ritrovo lì Perché ho messo il letto Già da un casino Allora Il primo blocco cos'è Si chiama Redstone lab Allora Poi qua facciamo Uno Due Tre Facciamo Uno Due Tre Questo Lo togliamo Questo Lo togliamo Facciamo Ah No Orco Calma Uno Due Tre Facciamo Così Uno Tre Uno Due Tre Orco Ok È un blocco Che hanno aggiunto Lo si fa mettendo Glowstone E redstone Nella Craftina Quindi Se io mi faccio Tipo Così Mi si accende Che figata Ok Quindi Ora Il problema È Che Devo Ricordarmi Come si fa A A fare Una cosa Del genere In modo Che io Se faccio Così E ci metto Una torcia Qui Mi si accendono Tutte Tre Che figata Si Proprio Quello Uccidere Gelatine No Proprio Le gelatine Si Ma Aspettiamole Via Le gelatine No Ok Basta Quindi Questo È anche Abbastanza Facile Da ricordare Il problema Ora È questo Allora Bisogna Fare Uno Così In modo Che se Io faccio Così Così Me le fa Tutte Tre Che Figata Ah si Perché Passa Passa Blocchi Perfetto Adora Sarà Molto più Semplice Che Quello Che Pensavo Allora Si Enzo Si No No È la 1.2.3 Linux Life Sul Che Mi Dici Se Ti Creavo Io Che Li Accendi Tutti Con Una Leva No Ti Vedo Le cose Le Le Lo Ok Quindi Oh Cocane Allora Mettiamo Un Altro Qui Con Questo Questo Poi Dobbiamo Metterne Un altro Allora Uno Qui Uno Qui Adesso Lo togliamo Che non Ci interessa Andiamo Sopra Facciamo La stessa Cosa Quindi Uno Due Così Così E Così Allora Lo Master Lo Allora Mettiamo Uno Qui Uno Qui Uno Qui Anzi Facciamo Così Vediamo Se si accendono Verifichiamo Se si accendono Ok Quindi Ora Ora La cosa Sarà Così Ora Sarà Piuttosto Un problema A farli Scendere Più che Altro Perché Devono Tutti Oddio Facciamo Così Così Non Ci Non Allora Allora Usiamo Il blocco Arancione Anzi Aspetta Dobbiamo Prima Prendere Il blocco Di lana Nera E riempire Tutto Qui In modo Che Risalti Di più Quando Si accendono Allora Guardate Un Due Tre Provate A costruirlo Insieme a me Nel senso Aprite Minecraft E Provate A costruirlo Insieme a me Che E divertente Nel senso Quando impari A usare Un po La redstone Ti senti Figo Ok Spesso Ora Facciamo D Uno di contorno A Sì Allora Ci manca Questo Sopra Perfetto Allora No No ma Non è per Coprire Giallo Perché Se volessi Giallo Si potrebbe Anche Lasciare È solo Per far Vedere Meglio Guarda Perché Se io Metto La torcia Qui Così Si Si vede Si vede Medio Che Acceso Perché C'è Pochi Presso Della Luce E per farlo Ancora Meglio Faccio Un trucchetto Con il fatto Delle ombre Se io Faccio Una cosa Così Guarda Tipo A Cappello C'è Tipo Una specie Di box Di file Non so Se Se ho Se ho Reso L'idea No Sbagliato Quindi Facciamo Uno Due Fino A Qui Ok Facciamo Anche Di qua Quindi Aspetta Che Dobbiamo Coprire Qua Tutta Uno Due Tre Allora Uno Due Tre 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 Scusatemi Se non Seguo Ma Stagione Con le ombre Vero In teoria Si Ok Ora Dovre Averle No Parti Cosa Mettiamo All Clauciofogo Non Interessano Bobbing No Non Lo Voglio Ok Invece Di farci Mettiamo No Che Più Figo Ok Ci sono Le Ombre Ciao Siamo Tutta Benvenuto Spero Mi Può Dare Il Link Del Too Many Items Ehm Basta Di Too Many Items Su Google E' Il Primo Risultato Che Ti Viene Di Minecraft Forum Ok Qui Vedete Già Va Meglio Problema Che Il Solo È Laura Ma Comunque Va Bene Ora Ora Oh no Toggi Allora Ora Dobbiamo Portarli Tutti Giù Allora Devo dare Dei Nomi Ai Segmenti Perché Ogni Segmento Avrà Un Nome Questo Sarà 1C 2C 3C Allora Mettiamoci Cartelli Così Capiamo Tutti Meglio Cartelli Dove Sono I Cartelli 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 Non è Fastidioso Voi Dove Trovate Fastidioso Allora Qui ci Mettiamo C1 C2 E C3 Qua ci Mettiamo R2 No L2 L1 Qui ci Mettiamo R2 Ok Perfetto Si Manolino Funge anche Per la 1. Cosa Quindi Allora Prima cosa Dobbiamo Abbassare Questo Quindi Facciamo così Color melone Facciamolo più a lato Allora Si Voglio fare una cosa del genere Così Ci mettiamo un nome del blocco Questo sarà Abbiamo detto L1 Sto costruendo Un display A 8 segmenti Che Potrà digitare 1 2 3 4 Che non so ancora come lo farò 4 lo farò Oddio Come si fa il 4 4 Che va Che va